Cantù potenzia l'offerta di tamponi per il mondo della scuola. A partire da domani pomeriggio a Viglizzolo in via San Giuseppe sarà attivo il drive-thru. Saranno effettuati test antigenici rapidi. Il servizio sarà riservato ad alunni, insegnanti e operatori scolastici. Il nuovo punto tamponi è stato realizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la partecipata Canturina Servizi Territoriali. Sono in corso i lavori per completare l'allestimento del centro, che potrà contare su una tenso struttura e un container dedicati nel parcheggio sopra il centro comunale per i tamponi già attivo. L'accesso sarà consentito solo ad alunni, insegnanti ed educatori con il provvedimento di ATS. Il test verrà effettuato gratuitamente. Il servizio drive-thru prevede la somministrazione del test direttamente a bordo del proprio veicolo. Sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Il centro tamponi comunale proseguirà regolarmente le attività. Da maggio a oggi ha già garantito oltre 20.000 test.